Tra le tante mostre che abbiamo mandato in onda in questi anni non poteva mancare per il 2011 un appuntamento con l'Unità d'Italia. E questo appuntamento abbiamo deciso di cavalcarlo proponendo al pubblico insieme al Museo dell'Accademia Ligustica due mostre in cui potessimo riflettere in modo un pochino più articolato e più approfondito sul patrimonio conservato all'interno delle nostre stesse collezioni. Quella della Galleria d'Arte Moderna appunto e quella del Museo dell'Accademia Ligustica. Proponendo al pubblico opere che normalmente conserviamo all'interno dei depositi. Non solo ovviamente quelle dei depositi anche quelle in parte dei percorsi permanenti ma ripensate attraverso un tema molto mirato. La mostra che inauguriamo il 3 di marzo si intitola Italia Unita, capolavori dell'Ottocento a Genova, percorsi in città tra musei, mostre, collezioni e dimore. Quindi con questo terzo titoletto in realtà apro a una complicazione che abbiamo creato intorno a queste due mostre. Le due mostre saranno lo spunto e l'occasione per proporre ai cittadini e ai turisti una serie di attenzioni su collezioni private e su dimore private, nonché musei, penso al Museo del Risorgimento o alla Galleria di Palazzo Reale o alla stessa Wolsoniana e ancora alle raccolte Frugone, all'interno dei quali vi siano opere che hanno a che vedere, hanno a che fare con i temi dell'Unità d'Italia. Sono temi cavalcati solitamente da grandi pittori, penso a Nicolò Barabino e alla sua pittura di storia, e che puntualizzano il percorso appunto sull'Unità d'Italia.